Un diciottenne di origini siriane sbarcato a Messina lo scorso 11 marzo è stato fermato dalla polizia perché sospettato di far parte dell'organizzazione terroristica Jabhat al-Nusra. L'uomo era arrivato in Sicilia insieme ad altri 222 migranti. Durante un controllo di sicurezza avrebbe rilasciato le forze dell'ordine e dichiarazioni contraddittorie. La presenza sul cellulare di chat e video inneggianti alla Jihad ha poi portato all'effermo. I contenuti cancellati in un primo momento da ragazzo sono stati recuperati dalla Digos e dalla polizia postale di Messina rafforzando così l'ipotesi di una sua militanza nell'organizzazione siriana secondo gli investigatori con un ruolo di comando intermedio.